Particella di Dio La grande fisica si è mobilitata per mesi per la celebrazione del bosone di Higgs, chiamato anche la particella di Dio. Commento È la solita illusione della scienza, cioè della mente, di scoprire il perché esistiamo. La scienza non lo potrà mai scoprire perché la mente pensa e non sente, mentre l'esistenza di Dio si può solo sentire nel luogo più vicino a noi stessi, e cioè dentro di noi.